C'è stato un periodo della mia vita nel quale non avevo la minima idea di cosa avessi voluto fare del mio futuro. È stato un periodo davvero difficile tra depressione esistenziale, confusione appunto dovuta alla potenziale carriera lavorativa da intraprendere e in generale a una difficoltà relazionale per la fine di una storia. E in quel periodo io non avevo più idea di quali fossero i miei obiettivi. Non capivo all'interno dei mille stimoli e potenziali strade da intraprendere quella che mi avrebbe dato maggiore soddisfazione. Perché non sapevo davvero per esempio cosa avessi voluto fare come lavoro e il lavoro era veramente uno degli aspetti che più di tutti mi turbava. Però avevo appunto anche questa crisi esistenziale per cui non riuscivo nemmeno a trovare stimolo nell'idea di cercare un lavoro. Non riuscivo a dare minimamente priorità a quelli che erano i miei interessi, le mie passioni. Insomma ero completamente perso e non avevo davvero nessuna bussola. In quel periodo la cosa che più di tutti mi ha aiutato a uscire e a ritrovare anche una sensazione di equilibrio e di benessere psicologico è stato fissare un obiettivo che potesse essere superiore a tutti. Un obiettivo che non era qualcosa che dipendeva anche da fattori esterni ma era qualcosa che sentivo dipendere esclusivamente da me ed era quello di diventare indipendente. Sì perché io vivevo alla fine dell'università ancora con i miei genitori e non stavo male di per sé perché comunque vivere con i tuoi genitori ti dà tanto, è vero che ti toglie tanto ma a livello di comodità, di aiuto, di supporto anche potenzialmente dal punto di vista economico avevo comunque una famiglia che non mi pressava particolarmente a livello di cose da fare in casa quindi diciamo che stavo bene anche perché approfittavo di una situazione di benessere che mi veniva data. Dunque in quel momento se io avessi dovuto agire a livello istintuale cioè seguendo i miei istinti non avrei cercato l'indipendenza me ne sarei stato lì avrei cercato per esempio di trovare un lavoro che mi piacesse avrei cercato di trovarmi, non lo so, una compagna avrei cercato di fare dei viaggi avrei cercato di fare altro per sbloccare la mia situazione di difficoltà e invece ho deciso di diventare indipendente ho deciso di investire tutto il mio tempo le mie risorse o comunque la stragrande maggioranza del mio tempo e delle risorse sull'obiettivo dell'indipendenza e voi direte perché? perché ero convinto e oggi ho avuto la riprova che l'indipendenza non è una cosa diciamo accessoria l'indipendenza è l'obiettivo dell'adultezza finché non diventi indipendente dal punto di vista economico e anche ovviamente pratico nel senso finché non hai i tuoi spazi la tua libertà di sbagliare la tua libertà di essere solo anche in casa e per questo per me è fondamentale che prima dell'esperienza della convivenza ci sia da parte di tutti anche un'esperienza di solitudine perché lì veramente testi le tue capacità di stare in piedi non hai più qualcuno a cui rendere conto sei tu che devi trovare il tuo equilibrio e questo è stato il mio la mia stella polare cioè io in quel periodo avevo comunque l'ansia di non avere un lavoro che mi potesse dare soddisfazioni avevo l'ansia di non lo so aver trascurato delle relazioni di dover riprendere dei rapporti di dover rimettere in piedi cose passate avevo tante cose che mi pressavano e che mi disturbavano ma ho deciso di metterle tutte in piano secondario ho deciso di fare ordine sulle mie priorità e ho preso l'indipendenza e l'ho messa al primo posto quindi fa niente se in quel momento il lavoro non era il migliore che potessi trovare fa niente se non guadagnavo quanto avrei dovuto guadagnare tutto e tutte le mie scelte erano secondarie propedeutiche alla realizzazione dell'obiettivo primario ovvero appunto l'indipendenza e l'indipendenza come dicevo non è un qualcosa che dipende da fattori esterni il fatto che tu non lo so sei insoddisfatto o infelice ecco io ho messo anche l'infelicità e la felicità prima dell'indipendenza cioè il mio pensiero era va bene essere anche infelici in questo momento perché ero profondamente infelice nel senso ero profondamente depresso va bene anche essere depresso accetto questa mia condizione ma la mia priorità non è uscire dalla depressione la mia priorità è diventare indipendente dunque tutto anche il mio benessere psicologico apparentemente veniva sacrificato per l'idea dell'indipendenza perché ero convinto che una volta arrivato all'indipendenza avrei potuto cominciare a dedicarmi seriamente e in quanto adulto autonomo a tutte le questioni che mi interessavano a tutto ciò che riguardava la mia vita senza dover chiedere il consenso a nessuno senza dover dipendere da nessun altro riguardo alle mie scelte potevo essere io che mi prendevo gli oneri e i vantaggi di tutto dunque è stato quello il momento chiave che mi ha permesso davvero di uscire da una situazione complessa e oggi che sono riuscito a raggiungere con tanti sacrifici comunque questo tipo di condizione sono sempre più convinto che l'indipendenza venga sottovalutata venga sottovalutata soprattutto in un paese come l'Italia dove si tende a rimanere in famiglia per tanto tempo e quando si sta in famiglia per tanto tempo non è mai una responsabilità del sistema sociale in cui ci troviamo perché dal punto di vista economico ci sono varie forme di co-housing di house sharing che ti possono garantire un'indipendenza dalla tua famiglia io sono riuscito a passare direttamente a una vita di indipendenza da solo ma perché quando mi sono messo a questo obiettivo ero talmente avanti con l'età per cui non aveva più senso in quel momento uscire di casa e condividerla con qualcun altro avevo bisogno dei miei spazi e ovviamente l'indipendenza che io ritengo più salvifica è quella che non prevede nemmeno il passare la casa con altre persone anche se in realtà ho parlato non tanto tempo fa in un podcast di comunità urbane e secondo il ragazzo che ho intervistato Fabrizio invece questo era proprio il senso della vita io invece non sono pienamente d'accordo penso che riuscire a guadagnare un'indipendenza anche solitaria possa essere davvero una cosa fondamentale poi ovviamente dipende dalla predisposizione personale però diciamo partendo dal concetto di indipendenza come separazione dalla famiglia di origine ma arrivando anche a un'indipendenza più totale quindi anche non relazionale di nessun tipo non relazionale con amici non relazionale con compagni, partner questo non significa che non ci sono significa che non ci sono all'interno della tua casa questo per me è stato fondamentale è stato fondamentale anche per migliorare le mie scelte relazionali la mia selettività e per trovare appunto un equilibrio per me appunto ripeto il concetto di indipendenza viene vissuto soprattutto in Italia dove si tende rispetto ai paesi nordici a rimanere in casa per tanto tempo come un optional io conosco tante persone ho conosciuto tante persone che nonostante abbiano la possibilità concreta, economica di tutti i tipi per uscire di casa e andare a vivere da soli non lo facciano per un semplice motivo perché non ne vedono un vantaggio dal punto di vista edonistico cioè il senso è io sto bene a casa sono servito sono comunque in una condizione di comfort non vedo perché dovrei abbandonare una condizione di comfort per andare a infilarmi in una situazione di difficoltà quindi di maggiore responsabilità da parte mia e in tutto questo spendere più soldi avere maggiori appunto anche come dire condizioni di tempo di difficoltà tutta una serie di di problematiche che in qualche modo mi vado a ricercare da solo perché è una mia scelta quella di uscire di casa spesso poi adesso vediamo anche perché è sempre una mia scelta secondo me però partiamo da chi ha tutte le possibilità di uscire e non lo fa perché sottovaluta e non riesce probabilmente a cogliere quali sono i benefici secondari di uscire di casa e di uscire dalla propria zona di comfort cosa che anch'io immaginavo perché non ripeto non lo provavo istintivamente magari sì avevo bisogno di stare da solo a volte avevo bisogno di maggiore indipendenza ma comunque i comfort della casa della famiglia li riconoscevo ma appunto è un qualcosa che secondo me non può essere evitato non può essere visto come un optional non può essere visto come una cosa sì se voglio divento indipendente ma se non voglio continuo a vivere con i miei genitori no il senso dell'indipendenza e quindi del diventare adulto è l'indipendenza anche dalla famiglia di origine noi tendiamo anche per cultura a pensare che l'unione familiare sia sempre la cosa migliore possibile dal punto di vista psicologico e relazionale ma non è così a mio modo di vedere il fatto di abbandonare la famiglia di origine e cercare un'indipendenza propria è qualcosa di fondamentale in un processo di crescita psicologica è qualcosa che non può essere portato avanti all'interno della famiglia ovvero le tappe psicologiche che tu puoi ottenere stando da solo la maturazione psicologica che tu puoi ottenere stando da solo indipendente dalla tua famiglia non puoi di fatto per forza di cose acquisirle all'interno della tua famiglia perché vivrai in un contesto che non ti permetterà inconsciamente e anche in modo sottile di guadagnartele quelle tappe dunque è una via che secondo me non può essere vista come una scelta nel senso che la faccio o non la faccio e mi prendo dei pro e dei contro sì sono dei pro e dei contro ma da un punto di vista di maturazione psicologica e di raggiungimento di una maturità che potremmo definire adulta è fondamentale dunque questo secondo me è qualcosa che non tutti riescono a cogliere e mentre ci sono persone che escono di casa prestissimo nei paesi nordici si ha una tendenza a uscire di casa molto presto ripeto non è solo un fattore economico è un fattore molto culturale vediamo un attimo il fattore economico io stesso mi sono trovato in una condizione di voler uscire di casa desiderare ardentemente un'indipendenza come immagino molti di voi che mi ascoltano hanno ma non avere in quel momento le risorse economiche per uscire di casa e tutto il senso di questo podcast è questo io mi son detto voglio uscire di casa il prima possibile voglio cercare di trovare questa indipendenza che non è utile magari più di altro in questo momento per stare bene ma che lo sarà sul lungo periodo decisivo per diciamo sbloccarmi da un punto di vista di anche capacità organizzativa dunque io non avevo le risorse economiche e cosa ho fatto? ho messo in secondo piano tutto per raggiungere quell'obiettivo quindi ho detto mi trovo un lavoro non mi interessa che sia il mio lavoro dei sogni perché in quel momento qualunque lavoro trovavo pensavo ma davvero mi piacerà fare questo lavoro per tutta la vita cosa sbagliata di per sé però finché non avevo il mio obiettivo chiave l'obiettivo sopra tutti io continuavo a fare delle scelte contraddittorie da una volta cercavo di trovare il lavoro che mi piaceva di più l'altra volta lo sacrificavo per un altro obiettivo ma non avevo un obiettivo chiave che guidava tutte le mie scelte l'indipendenza lo è diventato lo è diventato e per me è fondamentale avere un obiettivo soprattutto perché lì è incominciato a guidare appunto anche le mie scelte secondarie trovo un lavoro non mi piace penso che sia il lavoro per la mia vita no fa niente è funzionale all'indipendenza cioè è funzionale alla mia priorità assoluta sì ok cosa non ha non ha questo lavoro che non va bene non mi piace questo non è qualcosa che riguarda il mio obiettivo non mi fa guadagnare abbastanza questo sì questo fattore è funzionale al mio obiettivo ok cambio lavoro ma cercando di trovare uno che mi piace di più no cercando di trovare uno che mi faccia guadagnare di più quindi vedete ho messo ordine nelle mie priorità dunque non c'era più l'ansia di trovare un lavoro che non mi piacesse perché non era più quello il problema ero anche disponibile ad accettare un lavoro che non mi piacesse ma a patto che mi facesse guadagnare di più e mi permettesse dunque di diventare indipendente questo tipo di pensiero è stato il pensiero che più di tutti ha reso una motivazione alle mie azioni motivazione che spesso è la chiave di tutto ed è la questione in cui falliscono molte persone cioè nel non riuscire a trovare una motivazione perché a volte non si riesce a capire qual è la priorità assoluta qual è l'aspetto che dovrebbe guidare ogni nostra scelta e il mio consiglio anche se non mi piace dare consigli ma in questo caso lo faccio se siete confusi se siete apatici se avete confusione su quello che volete fare nella vostra vita su quello che siete su quello che volete diventare e tutto questo vi mette pressione vi dà angoscia vi dà ansia perché avete paura di sbagliare avete paura di non fare la scelta giusta fermatevi e cercate di trovare la priorità che possa mettere in secondo piano anche tutto il resto se non siete indipendenti quindi se vi trovate ad avere pensieri di questo tipo cioè di realizzazione personale lavorativa eccetera scolastica e non siete indipendenti lo fate in un contesto di non dipendenza economica il mio consiglio è di mettere da parte tutto tutto e diventare indipendenti prima di tutto dal punto di vista economico una volta che lo siete avete in mano la vostra vita avete in mano le vostre scelte avete in mano quello che voi potete fare e io pensavo anche bene una volta che sarò indipendente avrò anche la possibilità di sbagliare perché non dovrò più rendere conto nessuno di stare sprecando i suoi soldi di stare sprecando tempo che lei o lui nel caso dei miei genitori mi stanno concedendo per realizzarmi non ho più l'ansia di realizzazione io sono libero di sbagliare sono libero anche di fermarmi sono libero di non fare niente a parte ovviamente mantenermi economicamente se è quello che desidero questo mi ha scaricato davvero enormemente di tutte le ansie che avevo sulla mia realizzazione sull'ansia di sbagliare scelte di lavoro sull'ansia di non essere felice perché avevo anche l'ansia di non essere felice di dover essere felice perché avevo tutto oggettivamente a livello materiale ma non avevo la cosa più importante la libertà di scegliere di sbagliare la libertà di non dover rendere conto a nessun altro qualunque cosa io avessi voluto fare qualunque cosa io potessi scegliere da non decidere di non mangiare per esempio che non so di saltare un pranzo al decidere di partire per tre giorni senza dover dire nulla a nessuno al decidere di non ritornare a casa la sera qualunque cosa io prima dell'indipendenza dovevo rendere sempre conto a qualcuno e questa cosa diventa un peso anche se non ce ne rendiamo conto anche se a volte lo sottovalutiamo come costrizione queste cose che ho citato e mille altre di cui non siamo consapevoli diventano una gabbia una gabbia psicologica che ci porta davvero a essere confusi a non avere più una chiara priorità di quello che dovremmo raggiungere e ripeto se vi trovate in una condizione di dipendenza economica sospendete a mio modo di vedere è il mio consiglio qualunque altra azione desiderio pensiero che non sia quello di raggiungere l'indipendenza mettete tutto in un secondo piano date priorità assoluta all'indipendenza una volta che raggiungerete l'indipendenza economica e pratica ma quella pratica passa ovviamente dall'economica a meno che non desideriate vivere sotto un ponte però ammesso che vogliate avere una casa vogliate avere uno spazio dovete ovviamente raggiungere prima l'indipendenza economica e di conseguenza anche quella pratica fate prima questo cercate di raggiungere questo obiettivo cercate di entrare nella vostra vita adulta una volta che qualunque età abbia abbiate non è importante se ne avete 18 38 o 48 il mio pensiero è che se io avessi fatto questo percorso di indipendenza prima di aver anche deciso di studiare all'università ecco sarei oggi sicuramente una persona che guardandosi le spalle vedrebbe meno sofferenza meno anni tristi perché io credo che probabilmente la prima cosa davvero da fare quando si ha 18 anni è incominciare a ricercare l'indipendenza economica oggi c'è invece più la tendenza a dire investi investi studio 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 e poi un giorno otterrai la tua indipendenza economica ma questo dilaziona il tuo tempo passato in famiglia in un modo che io ritengo veramente pericoloso per cui si rischia appunto dopo i 18 anni di finire in una palude si rischia di finire in un vicolo cieco e non trovare più nemmeno poi dopo le motivazioni a un'età più avanzata per ricercare quell'indipendenza economica e magari lasciarsi cullare in eterno dal calore della famiglia che ripeto non è niente di male se lo guardiamo da un punto di vista di piacere donico ma lo è se lo guardiamo da un punto di vista di sviluppo psicologico quindi io per come la vedo io se dovessi costruire una mia società ideale prima di tutto prima di decidere la facoltà universitaria prima di decidere non lo so se stare all'estero in Italia qualunque scelta di vita la mia priorità dovrebbe essere divento indipendente una volta che sono indipendente faccio il mio percorso faccio quello che voglio vado a studiare vado in un altro paese vado ovviamente sempre cercando di mantenere una indipendenza ma poi quando tu diventi indipendente hai anche molti più strumenti per fare dei cambiamenti drastici hai anche molte più risorse non tanto economiche ma anche di capacità di muoverti all'interno del mondo di avere anche capacità di scelta capacità di di sbagliare e superare l'errore finché non raggiungi l'indipendenza tutto questo diventa complesso fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti se mi seguite su YouTube se mi seguite su Spotify ricordatevi che ogni giorno alle 21 esce un nuovo podcast grazie a tutti